Un saluto da Andrea Castriotta e benvenuti alla nuova puntata di Capitanati Sport Magazine ovviamente su Mitico Channel e per questo ricordiamo tutti di iscriversi a questo stupendo canale nonché a seguirci sui nostri social sulla pagina di Capitanati Sport nonché Mitico Channel bene entriamo nel vivo della trasmissione parlando di pallavolo femminile Serie B1 girone D, la Di Lillo Libera Virtus Cerignola abbatte Guvo Baratto Garzano per 3 set a 0 purtroppo la BCC SGR Vole Manfredonia perde ai Sernia per 3 set a 1 in classifica le ragazze cerignolane grazie a questa stupenda vittoria balzano al nono posto con 17 punti purtroppo più in giù troviamo le ragazze sipontine a solo 12 punti in penultima classifica davvero speriamo che le ragazze manfredoniane possano riprendersi al più presto in B2 girone I, la pallavolo Cerignola batte Volei Torretta per 3 set a 0 grazie a questa vittoria le ragazze salgono a 29 punti, terzo posto a soli 5 punti dalla capolista ricordiamo che se dovesse finire oggi il campionato le ragazze centrerebbero lo storico risultato dei playoff noi facciamo davvero un grandissimo in bocca al lupo alle ragazze di Mr. Filannino e speriamo che riescano in questo strepitoso risultato in serie D girone A, rapida successione di risultati Palo Sporting Club Volei batte Olimpio 8 a 9 per 3 set a 0 nel derbissimo SVG Energia Lucera batte Farmacia Fares Lucera per 3 set a 1 purtroppo il Foggia Volley perde in casa contro Gasdan Pegaso per 3 set a 1 in classifica ricordiamo che il Foggia Volley di Valeria Di Mauro sono saldamente al terzo posto con 21 punti più in giù ci sono le ragazze di Danilo Barbaro SVG Energia Lucera a 23 punti che appunto scavalcano le cugine della Farmacia Fares allenate da Giovanni Furno stabili a 21 punti un po' più in giù le ragazze ortesi dell'Olimpio Ortanova a 12 punti adesso parliamo di pallavolo maschile serie C girone A l'Enrico Tecno Master Beats vince in trasferta per 3 set a 2 contro Volley Club Grottaglie ricordiamo che i ragazzi cerignorani vincevano i primi due set agilmente poi si sono fatti rimontare e la spuntavano al tiebreak per 15-12 anche qui in serie C girone A derbissimo attesissimo lucerino tra l'ADS Group Lucera e l'Unipol Sai Lucera il derby va ai primi e ai ragazzi di Mr. Furno che si impongono per 3 set a 0 in classifica l'Enrico Tecno Master Beats Lucera Cerignola, pardon, conduce con 29 punti seguita rota dalla DS Group Lucera a 26 punti un po' più in giù i ragazzi di Mr. Barbaro e Fausto Baccari a 10 punti adesso cambiamo sport pallacanestro maschile ovviamente e non fa quasi più notizia l'Allianz Pazienza Sansevero vince in trasferta contro Sicoma Val di Ceppo per 87-62 ormai non abbiamo più aggettivi per descrivere questa favolosa stagione dei ragazzi di Giorgio Salvemini mentre purtroppo la Castellano Udas Cerignola perde nuovamente in trasferta a Teramo contro Teramo Basket 1960 per 81-63 scendendo di categoria in Serie C Silver Girone A la Silac Manfredonia torna alla vittoria battendo in casa Valle Dietre e Martina per 100-62 complimenti ai ragazzi Sipontini che salgono a 10 punti sebbene in classifica siano sempre al terzo ultimo posto la Sunshine Vieste perde in casa contro My Bar Caffè Castellano in una partita tiratissima per 97-94 comunque un applauso ai ragazzi di Francesco De Santis per l'ottima partita non hanno mollato mai e appunto hanno perso per soli tre lunghezze in Serie D Girone A la Dianne Bonfoggia vince per 95-70 contro Virtus Bitondo in casa e i ragazzi di Christian Vigilante ottengono la qualificazione matematica ai playoff davvero un grandissimo complimenti ai ragazzi foggiani purtroppo nel derby tra i Cus la spuntano i Baresi che appunto battono Cus Foggia Basket per 75-54 i ragazzi di Danilo Lamacchia sono sempre a 6 punti fermi a 6 punti in classifica in penultima posizione a braccetto con i ragazzi dell'Angiulli Ginnastica Bari scendendo di categoria in promozione Girone A Sveva Lucera batte Frassati San Giovanni Rotondo per 79-56 e ringraziamo il presidente Luca Maglia per averci concesso queste stupende immagini della partita in corso poi abbiamo Barletta Basket che perde in casa contro Virtus Foggia per 53-68 complimenti ai ragazzi di Fabio Ferreretti e infine la Basket Lucera perde in trasferta contro Bulls Basket Biceglie per 85-56 in classifica come sempre Capolista la Sveva Lucera a 24 punti più in giù troviamo la Virtus Foggia a 16 punti seguita da Basket Lucera anch'essa a 16 punti ed infine un po' più in giù la Frassati San Giovanni Rotondo con 6 punti al terzo ultimo posto cambiando sport parlando o meglio non parliamo oggi di rugby in quanto i campionati erano fermi per gli impegni della nazionale parliamo ora di palla a mano e vogliamo sottolineare ancora un'importantissima vittoria della Frita in Manfredonia che batte appunto in casa Putignano per 29-26 i ragazzi manfredoniani stanno facendo un ottimo campionato ricordiamo Serie A2 pertanto il secondo campionato più importante in Italia di palla a mano in classifica sono in ottima posizione con 15 punti prossimo impegno in trasferta contro la Lazio adesso parliamo un attimo di atletica sottolineando la vittoria del campionato italiano junior restonne dei 60 metri di Fabrizia De Mio che si è imposta appunto ai campionati italiani indoor di Ancona con l'ottimo tempo di 8.63 adesso vi facciamo godere appunto queste immagini della gara della finale complimenti davvero a Fabrizia bene dopo aver visto queste belle immagini vogliamo riproporvi due video presi dalla rete riguardante la preparazione dei ragazzi della Fovea Baseball appunto tra un po' comincerà il campionato e vogliamo sottolineare gli allenamenti intensi di questi ragazzi che praticano questo sport stupendo ecco a voi appunto le immagini di di questa di questa preparazione davvero molto molto dura di questa o a a a a a a a a a Grazie a tutti. 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 Un saluto, a sentirci, a presto. Grazie mille.